Ci sono delle volte in cui sembra che tutto il carisma del mondo non sarebbe capace di fermare certe persone da rovinarvi la giornata. Magari questa persona si lamenta spesso, è una piagnucolona, o magari c'è qualcuno che è verbalmente abusivo con voi. Ma qualsiasi cosa sia, ha un modo di fare negativo che sta cominciando davvero ad infastidirvi. Ed ecco perché in questo video voglio parlarvi di come gestire le persone negative in un modo totalmente carismatico. Ma prima di arrivare ai passi da seguire, che saranno 4, vi voglio ricordare che l'uscita del libro di Carisma Comando si sta avvicinando. Se non siete all'interno del gruppo Facebook vi consiglio di entrarci perché lì daremo tutte le info per acquistarlo. Nel gruppo troverete anche un post nel quale spieghiamo tutto, e il primo che indovinerà il prezzo del libro lo avrà gratis. Ora iniziamo. La prima cosa è la più importante che dovete relazionarvi con questa persona in una maniera completamente diversa da come avete fatto fin lì. Probabilmente già in passato avete provato a farle cambiare questo atteggiamento, ma senza riuscirci. Magari il vostro conquilino torna a casa del lavoro e si sfoga. Comincia a lamentarsi della sua giornata, della sua squadra, del meteo, qualsiasi altra cosa, e voi cercate sempre di tirarli sul morale. Il momento in cui cambiare questo atteggiamento non è mentre si sta lamentando, perché se fosse così avrebbe già funzionato nei tentativi precedenti. In questo caso vi consiglio di aspettare, lasciare che si sfoghi, e poi un po' di ore dopo dire Ehi, sono un po' preoccupato per te, hai un minuto per parlare. Questo lo farà pensare, wow, che c'è che non va? E questo lo farà aprire rompendo il suo schema e lì avrete una possibilità per parlare. Se vi agitate nel farlo, cominciate a gridare, ad alzare i toni nel mezzo di una discussione, potreste provare a calmarvi con un tono pacato dire Mi importa davvero di te, mi spiace litigare così. Questo può spostare il livello dei toni, e mentre cercavate di provare la vostra opinione, d'un tratto si è aperto completamente perché c'è stato un cambiamento di toni. Quindi, qualsiasi cosa sia, invertite il momento, invertite il luogo, ed invertite il modo in cui vi approcciate la situazione. Questo è il passo più importante per far diventare quella persona abbastanza ricettiva, in modo da cambiare il suo atteggiamento negativo. Una cosa che molto spesso fa effetto e che fa davvero aprire le persone è questa frase Guarda, volevo semplicemente che sapessi che ci tengo molto alla nostra relazione, ma non mi piace come si sta evolvendo, e mi piacerebbe migliorarla, quindi possiamo parlarne? Questo è qualcosa che molte persone non fanno. Non lo fanno con i propri amici, con la propria famiglia, con i colleghi a volte. Oltre a distruggere l'autostima della persona, li fa sembrare distaccati, perché quando arrivate e dite, devi smettere di lamentarti, quella persona si chiude in se stessa, e voi attaccate il suo comportamento, e lei si sente come se stesse attaccando la sua identità. Ma quando arrivate e dite, ci tengo a questa relazione, in questo modo vi muovete insieme verso una soluzione. Quindi questa è la prima cosa, fare in modo che si apra. Ma prima di farlo dovete presentarvi con una specifica richiesta. Dovete sapere concretamente qual è l'atteggiamento che volete che finisca, e quale invece vorreste vedere. Quello che molte persone fanno a questo punto è dire vorrei solamente che non ti lamentassi tutto il tempo, oppure vorrei che non fossi così stronzo. E questo non fa altro che creare un litigio quasi sempre, perché ora parlerete a riferimento a ciò. Non è vero, non mi lamento tutto il tempo. Oppure, chi è stronzo? Io non lo sono, tu sono stronzo. Invece siate realisti in merito all'atteggiamento che vorreste vedere. Per esempio, oggi mentre stavamo scegliendo il film, ti sei concentrato su come il mio film fosse un'idea stupida, piuttosto che dire, la tua idea non è delle migliori, mi piacerebbe se tu scegliessi invece qualcosa che potrebbe piacere ad entrambi. O se si tratta invece di qualcuno che è continuamente abusivo verbalmente, potreste dire, senti, mi hai chiamato sfigato questa volta, e voglio chiederti per favore di non farlo più. Ora, se avete già portato avanti questa situazione, comportandovi in un modo che rompe il suo atteggiamento, una richiesta specifica è qualcosa che funziona quasi sempre, ed è anche meglio quando dite, ehi, voglio dirti tutto qui. Se c'è qualcosa che faccio che rende difficile per noi continuare questa amicizia, dimmelo perché voglio che funzioni. Non ti sto semplicemente dicendo che sei uno stronzo, voglio semplicemente che siamo infelici entrambi l'uno con l'altro. Questo tipo di reciprocità vi porterà molto lontano. Quindi, dopo averlo fatto, mentre vi chiarite, probabilmente avrete la prima buona conversazione dopo tanto. Una cosa che dovrete fare per andare avanti, e non lasciare che si tratti di un caso isolato, che porti poi a ripresentarsi del problema, è chiedere gentilmente di poter ricordaglielo. E ciò significa che ci saranno delle volte in cui sarete con qualcuno che ha l'abitudine di essere critico, e dire cose negative. E mentre siete fuori, in pubblico comincio a dire, oh sì, lui, il mio amico è davvero uno sfigato, non è vero? E potrebbe fissarsi su questa cosa. Quello che dovrete fare e dire in questa conversazione è, se questo succede ancora, che mi chiami sfigato, va bene per te se ti do una piccola pacca per dirti, eh amico, ti ricordi? Perché davvero io non voglio che questo succeda. Quindi ditelo precedentemente, quando vi troverete in questa situazione, mentre comincia a parlare in un certo modo, voi gli date una pacca e dite, eh amico, ti ricordi di cosa abbiamo parlato? E lui la smetterà subito. Non deve sentirsi imbarazzato, e tutti quelli che vi circondano non devono saperlo, perché non lo state richiamando in modo aggressivo, e lui vi ha dato il permesso. Questo è davvero importante. Quindi tutto quel rancore che potrebbe provare viene calmato, sarà molto più aperto nel migliorare davvero il suo atteggiamento in tempo. Ricordatevelo e fatevelo con tutti quei comportamenti che non funzionano e non vi piacciono. Se ne avete bisogno potreste farlo anche un paio di volte con qualcuno, che è particolarmente difficile o negativo, e questo può andare avanti anche per molto tempo. Ora però voglio parlare di quei casi che sono veramente difficili, i casi al limite, e a volte si tratta della famiglia, oppure un sacco di persone mi parlano del capo, dei colleghi. Io personalmente non ho mai incontrato qualcuno che lavorasse in un ambiente lavorativo tossico, da cui poi sono riusciti a uscire, per poi essere nervosi o pentirsene. Magari ci vuole del tempo per rimettersi in piedi finanziariamente, ma è sempre andata per il meglio, dopo che se ne sono andati, e penso anche alla mia infanzia, in cui mio padre aveva un capo che fu un grandissimo stronzo per anni, e lui ha deciso di cambiare lavoro. Io ero contento, anche se ci siamo dovuti trasferire in una casa più piccola, ma almeno mio padre non doveva più sopportare quella persona. Quindi se credete che state facendo la cosa giusta per la vostra famiglia, o per voi stessi, sopportando degli abusi, ricordatevi, uscirà in qualche modo e vi farà diventare irritabili, e non vale la pena. Quindi uscite da quello scenario, andatemi, non lo apprezzerete, e credo che le persone intorno a voi lo apprezzeranno a loro volta. Ma tornando alla famiglia, a volte ci sono delle abitudini che sono semplicemente fisse, e questo può succedere quando ci sono delle situazioni particolari. E ho ricevuto questa domanda, ed è veramente difficile dare una risposta. Il padre di qualcuno, il fratello sta distruggendo la sua vita, ma lui ama questa persona, e non sa cosa fare. E hanno fatto queste cose, ma non hanno funzionato. Cosa potete fare in queste situazioni? Beh, davvero la cosa migliore che potete fare è riconoscere che a volte non siete la persona adatta per aiutarli. Provateci seguendo questi passi, e si tratta di trovare un momento, rompere la sua abitudine, trovare una domanda, fagliela e cercare di ricordagliela. Ma se si tratta di argomenti molto seri, del tipo non bere troppo e non drogarti, o viene a fare terapia con me, o segui gli alcolisti anonimi, qualsiasi cosa sia, dovrete chiedere l'aiuto di una terza persona professionista. Perché quando si tratta di qualcosa come l'abuso di sostanze, o si tratta di una dinamica di abuso familiare che dura a lungo, a volte non è abbastanza fare solo una domanda superficiale per far cambiare questo comportamento. Avete bisogno di un supporto continuativo, avete bisogno di una terza persona che intervenga. Se non funziona, e a volte può anche essere così, avrete una decisione difficile da prendere, e si tratta di accettare quella persona così com'è. Potrebbe esserci della negatività, potrebbero esserci abusi verbali, potrebbe esserci qualcosa di ancora più grave come l'abuso fisico, e potete accettarlo, ma non ve lo consiglio. Potete invece allontanarvi ed è molto difficile. Non invidio nessuno che debba fare questa decisione, ma spero di dare almeno un po' di coraggio alle persone che si trovano in questa situazione. La separazione da questa persona in questo momento non significa che sarà per sempre, e infatti non gli state facendo del bene, rimanendo e permettendo di continuare una situazione così miserabile. A volte la separazione indica la vostra serietà nel provare che con questa persona volete un'eccellente relazione positiva, e non vi accontenterete mentre distrugge la propria vita attorno a voi. A provare tatticamente quello che sta facendo e permettere di continuare a farlo, non è sempre il modo migliore. E so che è una situazione complicata, non voglio insinuare che qualcuno lo stia facendo nel modo sbagliato. È molto pesante e complicato, ma volevo solo dare un po' di supporto se vi trovate in una situazione in cui vi sentite di aver bisogno di allontanarvi da qualcuno che è davvero davvero vicino a voi. Quindi per il 98% dei casi i primi passi che facciamo sono quelli che ci aiuteranno davvero. Vi rimuoverete da quella situazione, lavorerete con quella persona, cambierà il suo atteggiamento e spero che metterete davvero tutto questo in pratica. Quindi per questo video è tutto. Se vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un like. In descrizione vi lascio il link per entrare nel gruppo Facebook dove troverete tutte le notizie relative all'uscita del libro. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo!